All'ultimo respiro, Almanzi Chiapponi nel Barletta ciuffa nel finale il Vieste, segnando l'acuto del definitivo 2-2 al cinquantesimo grazie alla rete di Caputo. Succede tutto nella ripresa, dove i garganici si portano in vantaggio di due gol, ma nel finale i biancorossi rimontano la partita con un doppio squillo in pochi minuti. Il Barletta di Mr. Tangorra deve fare a meno degli acciacati Pignataro e Varsi, con quest'ultimo che parte dalla panchina e sarà utile a match in corso. In avanti Procida, Caputo e Salamina. Il Vieste di Mr. Bonetti schiera in campo un 4-3-3, con Ricucci e Preto a supporto di Andrada, quest'ultimo rientrato dopo l'infortunio. Dopo una lunga fase di studio, il Barletta si fa vedere in avanti alla mezz'ora. Caputo serve campo reale che dal limite calcia in porta, la sua soluzione deviata in corner dalla difesa carganica. Al trentasettesimo, sul cross di Lucatelli, Pipoli, lasciato solo da Bonassia, colpisce di testa ma Caposelle è reattivo e para in due tempi. La prima frazione termina sul punteggio di 0-0. Momento dedicato al sociale durante l'intervallo. È giornata pro Barletta al Manzichi Apulin. La società biancorossa ha deciso di devolvere l'intero incasso ad Emilia, la giovane mamma barlettana che sta lottando contro un male raro ed aggressivo e necessita di costose cure all'estero. La ripresa inizia con il vantaggio dei bianco celesti al terzo minuto. Ricucci, dal limite dell'aria, lascia partire un esterno destro che finisce sul palo più lontano. Per lui arriva il secondo centro stagionale. Al diciassettesimo, Sangare colpisce male, alzando un campanile in area garganica ma Equestre limita il danno parando in due tempi. A metà della seconda frazione il Viestera doppia. Tiro di Ricucci respinto da Caposelle. Sulla ribattuta si precipita De Vita che a due passi segna il suo ottavo gol in questo campionato. Il Barletta non ci sta ed inizia ad attaccare. Verso la mezz'ora ci prova Proci da giro. Palla di poco fuori. Al quarantesimo caputo dalla distanza calcia una sassata in porta che si stampa sulla traversa. Sembra finita ed invece no. Tre minuti dopo arriva l'acuto della speranza. Lo confezionano i due nuovi entrati. Milella, dal lato destro, serve Varsi che di prima intenzione calcia sul secondo palo trovando il gol che riapre la gara. I biancorossi continuano l'assedio nei minuti di recupero. Al quarantasettesimo Bonassia calcia in porta ma Equestre respinge. Quasi al termine del recupero arriva la rete del pareggio biancorosso. Sul tiro di Procida Ranieri devia il pallone che inganna Equestre. Il portiere del Viest riesce solo a respingere la sfera ma Caputo, a un metro dalla porta, insacca il gol del definitivo pareggio. È 2-2 al Manzichiappoli in al triplice fischio. Domenica il Barletta giocherà di nuovo in casa contro l'Otranto, mentre il Viest affronterà in casa la Forti Saltamura. Quattro giorni dopo i Garganici ospiteranno il Corato nella finale di ritorno della Coppa Italia di Lettanti. Si ripartirà dallo 0-0 dell'andata.